Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A risolto giallo! Buonasera, bentornati a risolto giallo dalla vostra Alessia Sorgato, momentaneamente ancora priva di mazza villani, del quale si sente pochissimo la mancanza, anche perché ad ogni eventuale vuoto superisce la nostra fantastica ospite di oggi. Vi presento Luisa Ferrero, benvenuta! Ciao a tutti, sono Luisa Ferrero, eccomi qua! Eccola qua! Onorata e felice di essere con te! Oggi sembriamo due ragazzine degli elementari, perché io sono in rosa, lei è in celeste, in realtà siamo lei una cattivissima giallista e io una cattivissima conduttrice di una trasmissione che parla di libri gialli. Ed ecco qui, vi presento l'opera di Luisa, si intitola Cicatrici e già che c'era, si è già vinta un premio. Partiamo dall'inizio, cioè dal premio. Dunque, io sono innanzitutto una lettrice. Lettrice, ho sempre letto Gialli, Thriller, Nore, e mi sono cimentata in questo genere. Dopo aver pubblicato un racconto con Morellini, inserito nell'antologia Crime, Dieci piccoli colpi di lama con prefazione di Paolo Roversi, ho provato il romanzo. E mi sono trovata a dicembre del 2022 con questo romanzo scritto e ho detto, mo che ne faccio? Proviamo a vedere gli editori, non ne conoscevo, non avevo le mani in pasta, per cui ho detto, però io avevo il concorso. L'ho mandato a questa casa editrice che si chiama 01 Unice Edizioni ed è di Varese, ed è una casa editrice indipendente, non a pagamento, e loro avevano indetto questo concorso e nel giro di qualche mese, con mia grande incredulità, sono entrata nelle finaliste e a dicembre di quest'anno verrà, diciamo, decretato il vincitore della quinta edizione di Un Giallo per Mille. Ah, quindi te lo devono ancora? Sì. Io sono solo finalista tra i quindici che siamo arrivati. Ah, caspita, in bocca al lupo! Grazie. Bello, bello! Beh, vedete, Risolto Giallo a volte fa questi scupponi. Molto bello. Senti una cosa, ma io ti faccio questa domanda perché ho saputo dai commenti che vediamo sotto le puntate quando poi le rimettiamo in onda anche su YouTube che abbiamo tanti ragazzi, ragazze, uomini, donne che ci seguono che sono un po' aspiranti, scrittori. Probabilmente perché come te sono dei gran lettori e quindi prima o poi scatta fuori il gene. Ci provi. Ci provi. Come hai trovato la 0111? Io l'ho trovata sui social come concorso lanciato da questa casa editrice. Mi sono informata bene perché non volevo assolutamente cadere in reti di, insomma, di casa editrice a pagamento e non mi hanno chiesto neanche i soldi per mandare il manoscritto. Quindi questo credo che sia una cosa più unica che rara perché adesso oggi, come oggi, anche solo per un racconto, un contributo te lo chiedono. E mi sono trovata seri, professionali, mantengono le previsioni date perché io l'ho inviato, scadeva il 31 dicembre 2022, l'ho inviato qualche giorno prima della scadenza, a febbraio, te lo dico con precisione perché era a San Valentino e, insomma, non l'ho ricevuto il regalo da mio marito, l'ho ricevuto dall'editrice della 011 edizione che mi ha detto ci piace, lo mandiamo avanti, è commerciabile e quindi mi hanno detto se tutto va bene, salvo i previsti, verrà pubblicato in marzo, anche io, siccome è sempre scettica come sono, marzo 2023, sì, marzo 2023, 31 marzo 2023 è stato pubblicato. Ragazzi, questa 111 va tenuta d'occhio perché ci piace molto come si comporta. State attenti, Luisa ha ragione, se avete un romanzo nel cassetto o avete impredicato o anche soltanto un racconto, state attenti. Magari il canale dei concorsi può essere un canale interessante. Mi sono detta probabilmente il modo per farmi leggere di più, cioè probabilmente se tu lo mandi a un editore e magari un'agenzia letteraria dietro, probabilmente un'agente, magari sei un pochino, insomma, magari sei fortunata, ti va benissimo e io sono un po' scettica. Che bella voce che ha Luisa. Per cui ho provato, ho provato. E quindi, via, parte la gran cassa, primo romanzo, già finalista, non ci diciamo nient'altro e allora parliamo un pochino di lui, ma poco poco poco, eh Luisa, poi parliamo di te e di noi. Pochissimo, quel giusto che si può dire, minimo sindacale, cosa ci puoi raccontare? Allora, io sono di Torino. No, no, parliamo prima del romanzo, poi con te. Ma il romanzo è ambientato nel Polenti Ligure perché noi abbiamo la casa lì e io sono non vedente nel 2016 e quella realtà è quella che io conosco meglio, nel senso che di quella zona io ho tutto in testa, dai colori ai sapori ai profumi a tutto, per cui io ho preferito ambientale di Torino è molto caotica, ti girano una rotonda e tu non ti ritrovi più e io avevo bisogno decisamente di calarmi nella realtà per scrivere di cose che conoscevo e di luoghi che conoscevo veramente. E che frequenti ancora? E che frequento ovviamente, ancora adesso sempre a caccia di una location per un nuovo delitto. Eh sì, quattro sensi, allerta, qualcosa si trova. E molto acuiti, quindi. Tra l'altro i tuoi personaggi si spostano molto, cioè la scena non è statica o teatrale in un luogo. No, è tutto il ponente Ligo che va da Cervo a Viettimia io fino a Sanremo perché la scena si apre con la scomparsa di una ragazza Ambra Ricci e della madre che va a denunciarne la scomparsa e l'ultima volta che è stata avvistata è in Piazza Colombo a Sanremo e quindi iniziano ad indagare da lì anche se sospettano immediatamente che sia un allontanamento volontario per vari motivi. Quanti anni ha la ragazza? 20. Ahia! Si era già allontanata in precedenza aveva lasciato un whatsapp dicendo non cercarmi e quindi loro danno poco conto anche se comunque parte le procedure di denuncia. Poi diciamo che c'è qualche giorno dopo la morte di una commerciante d'Imperia che viene trovata straggolata nel suo negozio d'arte tesori d'arte e quindi loro si danno chiaramente maggior anima e corpo su questa seconda indagine anche perché hanno il questore che soffia loro sul collo perché è un personaggio di punta di Imperia viene detto loro è l'Imperia che conta è membro del Yacht Club di Salremo e qua bisogna mettere tutte le energie ma la mamma non demorde è un po' un'imperiatrice questa ma la mamma non demorde e continua 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 ecco a proposito di questa mamma non ti posso nascondere che leggendo il libro mi ha evocato un personaggio cinematografico che ha la caratteristica di essere stata odiata o amata visceralmente in ambedue i casi che è la protagonista di quattro manifesti ad Ebbings per caso in qualche modo c'è un'ispirazione che nasce da lì io non lo conosco eh vedi anche lì c'è una mamma che non si dà pace che ce l'ha a morte con la polizia perché pensa che non lo stiano facendo abbastanza che è un po' l'atteggiamento della tua mamma di Ambra e vabbè basta del libro non si dice nient'altro nient'altro neanche sotto tortura eh no anche perché io ammetto di essere a pagina 93 dicevo a Luisa che io la boa del centro del libro l'ho scollinata ma lei mi ha detto che il nodo non l'ho ancora trovato sono ancora indietro quindi figuriamoci se lo svelo a voi non se ne parla nemmeno e non ve lo svela nemmeno lei passo indietro perché la conosco la nostra Luisa Ferrero la conosco perché noi abbiamo un bar in comune un'attività in comune un bar ma voi direte ma come te sei a Milano quell'altra Torino come fate vi vedete al casello di Alessandria no facciamo entrambe parte di una fortunata squadra di commentatori perché noi non siamo dei critici letterari commentatori recensori gente che si diletta a leggere dei libri e poi ne parla su una piattaforma che si chiama Thriller Caffè ciao Giuseppe sono due anni che ti invito prima o poi devi venire lui si nega allora il virgolette mestiere del recensore non esiste nessuno ce lo insegna nessuno ci dice come si faccia mi dicono nemmeno ai master in editoria però tu lo fai e io lo faccio che cosa porta una grande lettrice come te come me a cimentarsi nella recensione a te cosa ti muove? dunque a me ha mosso comunque il riuscire a cercare di riuscire a leggere tra le righe perché secondo me se si legge con attenzione c'è molto di non detto nei libri e forse almeno questo ve l'ho detto a volte gli autori è proprio quello che loro vorrebbero che noi lettori vedessimo ma tu ci parli con gli autori? io in genere parlo cioè tu contatti l'autore prima di pubblicare? no però li conosco perché io comunque prima di cimentarmi nella scrittura ho fatto una valagata di corsi di scrittura il primo in assoluto che è quello che mi ha poi fatto pubblicare per Morellini è stato con Paolo Roversi Elisabetta Cametti è una partita bassissima lei no? e poi ne ho fatto uno con Marisa Giovanni di cui sono onorata di aver fatto parte e poi ho pubblicato due racconti all'interno del Giardino Filosofico che sono stati pubblicati in agosto adesso del 2023 e diciamo che il direttore di Giardino Filosofico è il loro Machiavelli ed è diciamo un dualista d'eccellenza ma che furbino che l'ha chiamato il Giardino Filosofico uno che si chiama Machiavelli e poi ho fatto altri corsi con Andrea Cotti con Frasso Moriupi quindi soprattutto scuola milanese bolognese romana quindi e diciamo che mi hanno proprio i corsi anche insegnato a capire come si struttura ovviamente il primo racconto e poi un romanzo e riuscire a capire se poi gli autori che leggevo diciamo che erano poi fedeli a questo genere questo modo di approcciarsi alla scrittura dove gli indizi magari non erano proprio posizionati nel modo giusto e quindi cercare di capire tra le righe che cosa c'era e questo è stato il mio modo di iniziare ad approcciarmi anche a scrivere di libri degli altri per poi scrivere ok per poi arrivare all'inevitabile libro tuo a proprietà di catalogazioni dove ti piacerebbe inserirlo come genere allora diciamo che loro mi hanno inserito nella collana la gialla perché c'era i romanzi e la gialla diciamo che il mio romanzo io io credo di scrivere più noir che è giallo però non c'era quella categoria per cui l'hanno inserito nella collana risoltisti ma a che autore siamo che ci dice una cosa del genere lei non è la prima no e non sarà nemmeno l'ultima quindi case editrici siamo d'accordo che il popolo l'utenza media conosce il giallo e magari la parola noir la pronuncia noire e non sa nemmeno di che cosa si parla però diamo un po' retta questi autori sono così diversi i due generi vero Luisa per certo anche perché diciamo che soprattutto nel mio un piccolo spoiler che posso dare è che ci sono dei capitoletti in prima persona perché è scritto in terza il libro al passato in prima persona e sono in corsivo dove noi conosciamo diciamo entriamo nella testa di quello che è molto insomma un po' problematico lo è stato a tal punto da arrivare poi a commettere dei crimini e quindi riusciamo anche a capire i meccanismi che portano ognuno di noi a travalicare la zona di bianco e entrare in quella di nero molti di noi siamo tutti un po' sul grigio ecco vabbè ma basta regali ai nostri ascoltatori quasi si regala a piene mani insomma vi ha detto troppo confermo ho stato di incuriosire confermo che ci siano questi questi inserimenti questi innesti in corsivo in prima persona confermo che si intenda abbastanza immediatamente direi che si tratta proprio dell'assassino ma non diciamo nient'altro beh senti visto che siamo verso la nostra chiusura si può se si può si può dare un'indicazione motivazionale come direbbe un giudice al titolo titolo molto particolare e io diciamo che il titolo ovviamente è nato dopo aver scritto il romanzo mi sono domandata quale titolo potesse essere trasversale che non spoilerasse nulla ma che comunque fosse indicativo ecco tutti i personaggi quasi tutti del mio romanzo hanno delle ferite profonde nel loro passato alcuni sono riusciti a trasformarle in cicatrici altri sono ancora lì che sanguinano e quindi ovviamente non hanno elaborato e le conseguenze si leggono nel libro io chiudo qua perché è bellissimo quello che hai detto buona serata a tutti e grazie grazie ciao quanto c'è di giallo nella vostra vita? e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? scopritelo con noi ha risolto giallo grazie a tutti